Napoli in Svezia con l'incubo tifosi. Tornando al calcio giocato però Mazzari dovrebbe schierare in attacco Cavani squalificato in campionato insieme a Vargas per il Cileno l'ultima spiaggia per scongiurare il prestito a gennaio. Circa 700 tifosi che seguiranno il Napoli nella trasferta di Stoccolma con una vittoria e in caso di sconfitta o pareggio del PSV che ospita la capolista Dnipro gli azzurri ipotecherebbero il passaggio alle fasi finali.